Salve a tutti, oggi parliamo di un SCP, elemento SCP-096, classe dell'oggetto Euclid. Procedure speciali di contenimento, SCP-096 deve essere contenuto nella sua cella. Un cubo di acciaio a tenuta staglia di 5x5x5 metri, per tutto il tempo. Controlli settimanali per eventuali crepe ufori sono obbligatori. Non ci devono essere assolutamente video di sorveglianza o strumenti ottici di qualsiasi genere all'interno della cella di 0,96. Il personale di sicurezza userà dei sensori preinstallati di pressione e rilevatori laser per garantire la presenza di 0,96 all'interno della sua cella. Tutte le foto, video e registrazioni dell'aspetto di 0,96 sono severamente vietate, senza l'approvamento del dottor censurato e del O5 censurato. Descrizione SCP-096 è una creatura umanoide che misura circa 2,38 metri di altezza. Il soggetto mostra un volume muscolare molto sottile e l'analisi preliminare di massa corporea suggerisce una lieve malnutrizione. Le braccia sono sproporzionate con il resto del corpo del soggetto, con una lunghezza approssimativa di 1,5 metri ciascuna. La pelle è per lo più priva di pigmentazione, senza alcun segno di piedi sul corpo. La mascella di 0,96 è in grado di aprirsi quattro volte in più rispetto a un essere umano medio. Altre caratteristiche facciali rimangono simili a un umano medio, con le eccezioni degli occhi, che sono privi di pigmentazione. Non è ancora doto se 0,96 sia cieco oppure no. Non mostra segni di nessuna funzione cerebrale, superiore ed intelligenza. Il SCP-096 è in genere estremamente docile e i sensori di pressione all'interno della sua cella indicano che trascorre la maggior parte del giorno verso la parete orientale. Tuttavia, quando qualcuno vede il viso 0,96 sia direttamente, sia tramite la registrazione, nei video, o anche una fotografia, entrerà in una fase notevole di stress emotivo. Di notevole stress emotivo. 0,96 coprirà la faccia con le sue mani e inizierà a urlare, piaggere e balbettare incoerentemente. Circa 1-2 minuti dopo la prima osservazione, 0,96 inizierà a correre verso la persona che ha visto la sua faccia, che da questo punto in poi sarà indicata come 0,96-1. La velocità documentata di 0,96 varia dai 35 km orari a, cioè su rato, km orari, e sembra di perdere la distanza da 0,96-1. A questo punto, nessun materiale conosciuto o qualsiasi metodo applicato possono ostacolare l'avanzata di 0,96. La posizione effettiva di 0,96-1 non sembra influenzare la reazione di 0,96. Sembra che abbia un senso innato per trovare la posizione di 0,96-1. Nota, questa reazione non si verifica durante la visualizzazione di rappresentazioni artistiche. Una volta raggiunta la posizione di 0,96-1, 0,96 procederà ad uccidere e dati cancellati, se SCP 0,96-1. Nel 100% dei casi non sono state lasciate tracce di 0,96-1. 0,96 poi si siederà per qualche minuto, prima di riacquistare la sua compostezza e ritornare nuovamente docile. Esso tenterà quindi di ritornare al proprio habitat naturale, dati cancellati. A causa della possibilità di una reazione a catena di massa, compresa la violazione del segreto della fondazione e grandi perdite civili. Il cupero del soggetto dovrebbe essere considerato di priorità alfa. Il dottor censurato ha avviato anche una petizione per l'eliminazione immediata di 0,96. L'ordine è in attesa di approvazione? No. L'ordine di eliminazione è stato approvato e deve essere effettuato dal dottor censurato, il dati cancellati. Log audio dell'intervista 0,96-1. Intervistatore, dottor censurato. Intervistato capitano in pensione. Censurato ex comandante della squadra di recupero Zulu 9A. Recupero l'incidente 0,96-1-A. Inizio log. Ta censurato censurato time area di ricerca censurato. Capitano censurato. Va sempre schifo il recupero iniziale. Non ha idea di cosa sia in grado di fare quella dannata cosa, oltre alle informazioni che i tecnici di campo sono in grado di raccimolare. E sei fortunato che se ti raccontano tutta la storia. Ci hanno detto che sarebbe stato un mordi e fuggi. Non ci hanno detto nulla sul non guardare quella dannata cosa. Dottor censurato. Potrebbe descrivere la missione per favore? Capitano censurato. Sì, scusate. Avevamo due elicotteri. Uno con la mia squadra e uno di backup con Zulu 9B. E il dottor censurato. Abbiamo individuato il bersaglio a circa due scatti a nord del nostro percorso di battuglia. Presumo che non si trovasse nella nostra direzione, altrimenti ci avrebbe preso in quel momento. Dottor censurato. Il suo rapporto dice che 096 non reagì al freddo. Cioè erano meno censurato gradi. Centigradi. Capitano censurato. Sì, in realtà erano meno censurato. E sì, era completamente nudo. E non ha nemmeno rabbrividito. In ogni caso siamo atterrati. Ci siamo avvicinati al bersaglio e il caporale censurato si era preparato per prenderlo. A questo punto il dottor censurato mi ha chiamato. Mi sono voltato per rispondere ed è stato quello che mi ha salvato. Il bersaglio deve essersi per forza girato e l'eberia a intera squadra lo ha visto. Dottor censurato. Fu in quel momento che 096 entrò in uno stato emotivo agitato? Già. L'intervistato si ferma per un secondo prima di continuare. Scusate, ho avuto i primi per un secondo. Dottor censurato. Va tutto bene. Capitano censurato. Già, beh, non vidi mai il suo volto. La mia squadra sì. E l'ha presa nel... Ci siamo capiti? Non leggo la parola che ha usato il capitano. Dottor censurato. Lo può descrivere un po' di più, per favore? Certo, certo. Ha iniziato ad urlare contro di noi ed a piangere. Non ruggendo come un animale. Era esattamente come una persona. Davvero accrapicciante. Parolaccia. Cioè, che non leggo. Altra pausa. Abbiamo cominciato a sparare quando ha preso il caporale censurato. E gli ha strappato via una gamba. Gli urlava chiedendoci aiuto. Ancora un'altra parola brutta. Ah. Comunque, stavamo sparando continuamente sul bersaglio. Caricatore dopo caricatore. Noi abbiamo fatto un... Ancora per quella parola di prima. Sono quasi impazzito quando ha cominciato a dati cancellati. E qui che ha ordinato l'uso di un... Si sentono vogli che si muovono. Lanciarazzi AT4EDT. Un lanciarazzi anticaro armato. Ho cominciato ad usarlo da quando l'OSCP, censurato, si liberò. L'ho visto squarciare carri armati. Come carta velina. Ha fatto la stessa cosa al bersaglio. Provocò danni gravi a 096. Non ha nemmeno battuto un... Stavo per leggerlo. Comunque... Un ciglio. Non leggiamo l'altra parola. Ha continuato a fare a pezzi la mia squadra. Anche se aveva perso mezzo torso. Si disegnò un grande semicello sul torso. Ma stava subendo danni. Se ne subì, non li mostrò. Deve aver perso tutti i suoi organi. Tutto il suo sangue. Ma non si curava di tutto ciò. La sua struttura ossea. Non è stata danneggiata però. Continuò a dilaniare la mia squadra. Quindi nessun reale danno strutturale? Quante parole direste che furono sparati contro 096? Come minimo? Un migliaio. Il nostro mitragliere ha mantenuto la sua GAU-19 sul soggetto per almeno 20 secondi. 20, di nuovo la parola, secondi. Sono 600 colpi calibro. 50 sparati in quella cosa. Tanto sputarli addosso. Poi è arrivato Zulu 9B. Sì, e la mia squadra non c'era più. Zulu 9B è riuscito a mettere la borsa sopra la sua testa. E lui si è semplicemente seduto. Abbiamo preso l'elicottero e lo abbiamo portato qui. Non so come non ho visto il suo volto. Forse Dio, Buda o chiunque altro abbia pensato che dovessi vivere. Poi, altra parola. Abbiamo ottenuto una rappresentazione artistica del viso di 96. Vuoi vederlo? Sa, dopo aver sentito le urla di quella cosa e le urla dei miei uomini. Non credo di voler dare un volto a ciò che ho sentito. No, semplicemente no. Si sento sedi in movimento e passi che lasciano la stanza. Si conferma che il capitano in pensione, censurato, ha lasciato la camera dell'intervista 22. Che sia registrato con ciò sto chiedendo formalmente di eliminare 096 il più presto possibile. Fine log. Questa è la fine del documento di 096. Lo shy guy. Spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo il prossimo video. E preparatevi per i prossimi SCP che tratteremo. Ciao.